Domenica 11 dicembre, ora 17.15, al Teatro della Fortuna di Fano, 27esimo concerto del complesso bandistico Città di Fano in favore dell'Osi dell'Accoglienza. Sono 14 anni che eseguiamo il concerto in favore dell'Osi dell'Accoglienza, l'Osi dell'Accoglienza è un'associazione qua di Fano di Sant'Andrea e Willis che accoglie bambini tallassemici ammalati di leucemia e che hanno bisogno anche del trapianto del midollo osseo. Il prezzo del biglietto sono 10 Euro e l'incasso della serata sarà interamente devoluto durante il concerto al Teatro della Fortuna. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro della Fortuna il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30, il giovedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30, sabato dal mattino e al pomeriggio fino alle 19.30 e il giorno del concerto che è domenica il mattino dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 all'inizio del concerto. Quindi domenica 11 dicembre ore 17.15, vi aspettiamo tutti, i 50 bandisti vi attendono come tutti gli anni, di solito il pienone è assicurato, ma quest'anno contiamo ancora sulla vostra presenza.